Papa Giovanni Paolo II Carol Wojtyla è stato Papa a lungo, dal 1978 al 2005, con il nome di Giovanni Paolo II. E' stato uno dei papi più amati nella storia della Chiesa e nel 2014 è stato proclamato santo da Papa Francesco. Nato in Polonia nel 1920, Carol affronta fin da giovane le sofferenze della vita con la forza del suo carattere e della sua fede. Rimane presto orfano e il suo paese viene prima invaso dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e poi sottomesso dal regime comunista. Ma il futuro Papa dimostra una grande vitalità. Prima di decidere di diventare sacerdote, lavora come operaio e come attore. E coltiva la passione per lo sport, per il teatro, per la poesia e per la cultura in generale. Il lavoro di insegnante di filosofia all'università rivela la sua capacità di farsi ascoltare dalle persone. Uno dei segreti del suo successo tra le popolazioni di tutto il mondo. Giovanni Paolo II è il primo Papa che usa i moderni mezzi di comunicazione di massa per portare la parola di Cristo all'intera umanità. Oltre a essere la voce di coloro che non possono parlare, come dichiara in uno dei suoi primi discorsi, viaggia moltissimo in tutto il pianeta e invita chi lo ascolta a non avere paura di aprire le porte al messaggio del Vangelo. Durante i suoi numerosi viaggi apostolici, che fa in più di cento paesi, incontra i poveri, i deboli e i perseguitati, per portare loro la speranza, la pace e il conforto della religione cattolica. Quando nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, un uomo gli spara cercando di ucciderlo, Giovanni Paolo II lo perdona e parla con lui. L'impronta principale, lasciata dalla sua personalità e dalla sua attività come pontefice, è infatti il dialogo, non solo tra individui, ma anche tra popoli e tra religioni.